salve ragazzi oggi location alquanto esotica come potete vedere anche il setup è particolare e c'è un ospite incredibile alla mia destra maestro salve salve a tutti cari amici oggi siamo qui direttamente da casa di Dugnolf di mio nonno con la pianta in onore di Dugnolf rigorosamente della nonna tanti bei recap oggi abbiamo i nuovi rule breaker siamo in trasferta che siamo a fare una cosa però ho detto il video deve uscire quindi mi sono portato il portatile e ce li guardiamo insieme quindi senza perderci in chiacchiere ci ritroviamo subito davanti questo bel Phil Foden che rispetto a quella che è l'ultima versione che è l'if si è beccato più 2 di velocità più un umilissimo set di tiro più 3 di passaggio meno 6 di dribbling che voglio dire erano anche un po' eccessivi per Foden più 1 di difesa che ti dirò è più 1 di fisico quindi statisticamente abbiamo tra le mani un giocatore che ha poi 4 di skill e 3 di piede debole quindi non proprio perfettissimo a livello di work rate abbiamo normale alto con alto in attacco rapido sicuramente notevole adesso le stats di tiro 90 finalizzazione 91 di potenza tiro abbiamo poi anche degli ottimi passaggi sembra molto agile anche perché 1,71 per 69 di peso 87 di stamina insomma c'ha tutte le carte in regola per essere un bel esterno c o c sì però occhio perché questo era bello buggato perché era sgusciantissimo quindi non vorrei che il fatto che gli hanno diminuito un po' il dribbling dopo analizzazione un po' sì meno OP il tiro già segnava sempre ricordiamo che poi tutti questi tu questi campioncini li provi tutti tutti li provo tutti passeranno tutti quanti sotto la spada del maestro che dirà il tempo di perderci 100k su ognuno e via bene quindi diciamo Foden sicuramente non costerà poco anche perché ha ipato del Manchester City inglese Premier League però uno di quelli da tenere d'occhio in questa squadra ma veniamo un po' alla ciccia perché già so che voi state aspettando un giocatore in particolare però il più alto di overall è questo Luis Suarez che ha un bel sorriso smaiante gli hanno fatto rispetto alla carta if addirittura un più 17 in velocità dispetto di un meno 4 tiro che comunque rimane ancora notevolissimo più 2 di velocità più 2 di dribbling più 1 di difesa e più 1 di fisico quindi fondamentalmente gli hanno boostato in maniera incredibile la velocità la finalizzazione e la potenza tiro rimangono al top c'ha degli ottimi passaggi discretamente agile nonostante comunque sia un giocatore di 1.82 per 83 kg 88 forza 90 di aggressività però il problema è quel 3 di skill fondamentalmente questo potrebbe essere bello gagliardo perché sembra il Suarez dei vecchi tempi però con 3 stelle skill tutta accelerazione finalizzazione quindi un try sicuramente glielo si deve dare sperando che insomma si potrebbe testare da C.O.C. questo anche perché comunque c'ha buoni passaggi il tiro ce l'ha questo ce l'ha dei bei finesse un tempo ma poi in teoria questo dovrebbe fare pure un botto in sedimento fa vedere l'aggressività sì c'ha 90 quindi sì sì secondo me è utilizzabile nonostante quel limite delle tre stelle skill tocca vedere un po' il prezzo che potrebbe penalizzarlo e da Tuarez passiamo a Frango il signor che sì che voglio dire ha ricevuto una carta di quelle veramente importanti perché rispetto alla versione base si è stuccato più 3 di velocità più 4 di tiro e addirittura più 12 di passaggio che sappiamo che al centrocampo è importante più 3 dribbling più 3 di difesa e un meno 4 di fisico che fondamentalmente conserva comunque 80 di aggressività e 83 di forza non sarà il parametro che aveva prima però ha ricevuto un bel boost in passaggio che prima insomma era abbastanza a piedi fucilati statistiche che parlano abbastanza per lui sicuramente in Serie A diventa il miglior mediano possibile sì ma io con questo ci ho fatto col base la VL la settimana scorsa da Linardo è fortissimo già il base quindi sta carta sarà a mani basse prima di provarlo il Cdc più forte della Serie A poi c'è anche qualche link interessante anche fuori perché magari si può mettere vicino a Fofanà per chi c'ha Fofanà se si riescono a piazzare insieme potrebbero essere due bei mandrilloni al centrocampo quindi da tenere d'occhio anche perché il cap è 380 quindi non credo che neanche andrà altissimo sicuramente le solite tarantelle si è sparisce poi alzano il cap però voglio dire bel giocatore Franco probabilmente uno dei top player all'interno di sta squadra cosa che invece non mi sentirei di dire per questo Macis non tanto per la carta perché comunque si è stuccato un po' di upgrade però il più grosso l'ha preso con più 16 di fisico quindi rispetto alla carta base non è che sia cambiato tanto si è fatto di steroidi praticamente però insomma parliamo di un esterno 4-4 sì piccolino rapido sgusciante veloce un discreto tiro passaggi che sono normalissimi certo con il 96 di agilità è notevole però insomma parliamo di una carta che non è che troverà grosso spazio cosa che invece non accadrà per questo Kulusevski perché ha una bellissima carta si è stuccato upgrade potenti certo quel meno 23 in difesa ci importa poco perché ha ricevuto un bel più 5 in dribbling più 9 in velocità più 5 di fisico più 7 di tiro e più 5 di passaggio quindi data la carenza di esterni soprattutto in Serie A questo si va a piazzare secondo me tranquillamente davanti i vari Felipe Anderson i vari Chiesa è 4-4 c'ha c'ha anche un ottimo work rate buon tiro 80-80 comunque per una carta come questa non è malissimo passaggi che non sono male non costerà tantissimo quindi magari per chi ha una Serie A questo gran carta questo sulla destra vabbè c'era quel politano per chi cerca un esterno perché poi magari i politano non l'avranno manco sbloccato tutti si sono mangiati le mali però potrebbero ripiegare su questo sì ma questo è top perché i giocatori con questi body questo è un metro e 86 questo è un metro e 86 ma se ti ricorderai l'anno scorso questo si speed boostava come un drago volava quindi c'ha pure un po' di forza quindi tipo Correa che ho provato e non è che c'ha queste stats ma quando piglia velocità non si ferma questo probabilmente sarà molto simile e tra l'altro c'ha pure passaggi buoni quindi sembra veramente top questo Kulusevski da tenere d'occhio quindi pure lui così come non è che ha bisogno di grosse presentazioni il buon Alfonsino Davis che si è stuccato un meno 5 di velocità e gli hanno piazzato un più 17 di tiro abbastanza inspiegabile paradossalmente questo si potrebbe piazzare mezzala sì sì io già immaginavo il suo change no no io già mi immagino le domande in chat le può fare Davis il C.O.C però guarda che 4-4 ma vedi allora che sei tu che hai no però paradossalmente questo si può usare da esterno piuttosto che da terzino scherzi a parte questo questo tiro che gli ha quando c'ha di controllo palla ma guarda che di controllo palla c'ha 83 c'ha 89 di dribbling male male non è poi c'ha 80 di aggressività 77 di forza goliardico serve qualcuno con cui fare qualche simpatico switch però questo sicuramente è un fenomeno ovviamente anche se si vuole continuare a utilizzare da terzino magari quei terzini che si sovrappongono con licenza di uccidere in un rombo questo è devastante così come questo invece va a dare delle vibes al buon Dugno che sto bamba sicuramente lo riproverà rispetto alla carta base abbiamo un più 15 in passaggio quindi non è che sia cambiato proprio tantissimo ovviamente è un esterno francese quindi molto utilizzabile bei link è un 4-4 diciamo può essere un'alternativa ai chip magari a un Neymar volendo visto che comunque link ambappé eccetera eccetera sì bisogna di quanto costerà ma tutto sommato 380 è il price range quindi secondo me sui 300 280 questo si potrebbe assestare di forza di forza ci abbiamo 60 e 59 di aggressività classica carta di bamba fondamentalmente però bello agile passaggi top bel tiro sì da provare è una bella non ci avevo fatto case passaggi questo potrebbe essere un ottimo cioci pure spostato si potrebbe testare anche perché un metro e 75 non è neanche così piccolino fisicamente poi ci abbiamo la SBC di Gosens che vabbè si è beccato un po' di upgrade ah no mi sa che ce ne sono due di Gosens abbiamo la versione con con la difesa con 86 di difesa bellissimo e la versione con 87 di tiro ma guarda quello con la difesa è eccezionale questo è un cc incredibile secondo me anche cdc guarda che velocità questo si può switchare tranquillamente secondo me guardi le stats di difesa sì di livello difensivo c'ha tutto sopra l'85 eh questo della difesa va a sbloccare chissà quanto costo quanto è non si sa no la sbc il prezzo non ce lo dice però secondo me penso che con un 150 all'ancuncu ce lo portiamo a casa anche perché poi è tedesco magari non lo so ci metti vicino pure che un gorezca qualcosa si riesce si riesce a fare però questo ci avverende una bella carta quindi sicuramente tra le due versioni quella con la difesa perché questo qui col tiro per usarlo da esterno è un 3-3 non è che ne vale tanto la pena Anthony Lopez lo mandiamo a rigiocare perché tanto portiere con tutto il bene che gli voglio il Tecatito invece c'ha rispetto alla carta base un più 14 no scusatemi un un meno 14 in difesa a dispetto di un più 19 di tiro quindi hanno bustato tanto il tiro però questo è un 4-5 no questo è un 5-5 quest'anno minchia è tanta roba questo questo potrebbe essere usato più da super sub magari un po' in tutti i ruoli c o c esterno pure seconda punta perché comunque c'ha un body type simpatico che è 1-73 con 41 di forza c'ha 94 di agilità con 41 di forza e 1-73 questo si gira benissimo notevole certo penalizzato da campionato e nazionalità però comunque parliamo di un buon giocatore non credo costerà manco tantissimo abbiamo Kappa vabbè Terzino che onestamente va a fare un po' concorrenza a Navas insomma tutta quella gente lì non saprei se andarlo a utilizzare si potrebbe anche pensare di utilizzare a centrocampo però vista la difesa vista la velocità i passaggi si potrebbe pensare di usarlo anche CC però lì il discorso è sempre quello che bisogna fare poi degli switch niente di eccezionale con così il baffo però merita sì quello notevole da Narcos e chiudiamo con Ibrahima Sangaré che onestamente l'unica cosa simpatica di sto Sangaré è questa laccata gialla sui capelli perché 74 di velocità ivoriano del PSV insomma non me ne voglia però gli hanno dato più 18 in passaggio magari se gli bustavano un po' la velocità però questo sarà il nuovo coates quello che troveremo trovi in tutti in tutti i pacchi esatto bene quindi abbiamo terminato raga questa cavalcata dei rule breaker da questa location esotica fatemi sapere come al solito nei commenti che ne pensate attendiamo delle review maestro mi raccomando per illuminarci il cammino e nulla noi vi auguriamo una buona serata spero che vedete presto sto video perché col 4G non so quando si caricherà salutone e un abbraccione ciao ciao